Benvenuti e bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Come va? Tutto bene? Ormai siamo a metà dicembre e si sta avvicinando sempre di più Natale. Allora, anche oggi noi non siamo da soli, il planetario mi sta concedendo la possibilità di intervistare sempre più persone. Quindi, noi non ci perdiamo in altre chiacchiere, partiamo con la sigla e poi cominciamo. Allora, oggi intervistiamo uno dei golem del planetario, una delle colonne portanti del planetario. Una persona che è qui, non da quando è stato costruito, ma che si è affezionata molto al luogo. Io vi presento Esther Cantini. Prego, prego. Può già presentarsi, può già salutare i nostri ascoltatori da casa. Sì, sono un po' imbarazzata per questa presentazione così impegnativa. In effetti frequento il planetario da circa 30 anni e sì, non mi considero una struttura portante, ma... A livello morale, io stavo parlando proprio. Diciamo che per me la frequentazione planetaria è stata molto importante perché ho imparato moltissime cose che altrove non avrei trovato. Quindi, insomma, sono molto soddisfatta di questo impegno che porta via molto tempo, ma dà tante soddisfazioni. Ti volevo chiedere, appunto, visto che siamo parlati già, abbiamo, siamo parlati, sì, il mio italiano mi ha già abbandonato da subito, quindi mi scuso immediatamente con un'ex professoressa di italiano. Doveva, doveva, doveva succedere prima o poi. Ti volevo chiedere, appunto, come ti sei approcciato? Come è partita la tua avventura qui al planetario? Proprio domanda classica di rito. Beh, è un po' difficile rispondere perché i motivi sono tanti. Un motivo è che io mi sono iscritta all'iceo classico a suo tempo perché ero incuriosita dal greco. Le materie tradizionali le trovavo tutte abbastanza noiose, quella lingua lì con un alfabeto così particolare mi attirava molto e quindi ho fatto il classico per quello fondamentalmente. E poi, appunto, chiaramente mi sono trovata a studiare, parlo di epoche passate, molte più materie letterarie che scientifiche. Per fortuna adesso al classico la situazione è molto cambiata, gli studenti approfondiscono molto anche le materie scientifiche e a queste uniscono un bagaglio, diciamo così, di tipo umanistico che poi permette loro di fare qualsiasi scelta all'università. Ai miei tempi non era tanto così, gli studenti di oggi voglio dire. Sì, sì, no, agli studenti di oggi non so i tuoi tempi ma comunque gli piace ancora correggere la pronuncia delle lettere greche. Perché io tipo le ho imparate all'università le lettere greche, visto che fisico ormai è diventata lettere greche più qualche numero se capita. e ho qualche mio amico, mio collega, che appunto mi dice, no, si pronuncia nu invece che nì oppure nì. Mi invece che nì. Esatto, mi immaginavo, vedi, già perso. Per non parlare di Omega e Omega, che in realtà vanno bene tutti e due, Omicron, insomma ci sono varie sfumature. Omicron penso che ve l'ha vista una volta. Sì. Forse proprio sono quelle lettere... Omicroncetti però. Omicroncetti? Omicroncetti e mira della balena. Ah, ok, è una stella, infatti stiamo dicendo, non è un simbolo. No, no, non è un simbolo, no. Però le lettere all'alfabeto greco sono molto utili anche in astronomia, perché nelle costellazioni le stelle vengono siglate con le lettere all'alfabeto greco in base alla luminosità, da alfa, beta, gamma, eccetera, giù a decrescere. Esatto, esatto. Ah, sei già partita proprio nell'astronomia, ormai è andata così. No, comunque sì, ai miei tempi, diciamo così, le materie letterarie all'iceo classico facevano la parte del leone, adesso la situazione è molto più bilanciata, quindi uno studente, secondo me, esce dal classico che ha una preparazione effettivamente abbastanza equilibrata. Comunque, in realtà, a me interessavano anche le materie scientifiche, ho avuto una brava insegnante di scienze, però alla fine del liceo non me la sono sentita di affrontare una facoltà di tipo scientifico, perché soprattutto in matematica e fisica non avevo sicuramente i prerequisiti adeguati. Sto vedendo che molte volte, proprio in queste interviste, mi ricordo anche con la mia professoressa di Fisica 1, se non avete ascoltato l'intervista, è indagini sul metodo scientifico con la professoressa Franchini, vi invito ad ascoltare in piccolo pubblicità, così. L'ascolterò di sicuro. Fa sempre bene. L'ascolterò perché è molto interessante. Una cosa che, una costante che rimane è una professoressa che ti fa piacere la materia, quello lì spinge veramente tanto, tipo per me invece c'è stato, sì, sia una professoressa, però anche molta ricerca da solo, cioè diciamo che la mia professoressa era più incentrata su matematica che su fisica, e quindi me la sono in pratica approfondita da solo. L'ho scoperto questo mondo dietro, ho detto ok, mi lancio, vediamo cosa succede. E te invece appunto hai fatto quindi il classico perché ti sentivi più forte in quella parte lì, e però poi astronomia? Allora, adesso apro e chiedo subito una parentesi. Una mia ex collega di matematica e fisica, molto molto brava, più giovane di me, ma non giovanissima, viene dal liceo classico ed è laureata in fisica. Voglio dire che appunto, insomma, teniamo conto che... La mia professoressa di fisica 1 appunto ha fatto il classico, poi si è approcciata a fisica. Quindi siamo già, abbiamo capito, abbiamo capito il concetto di fondo. No, ad ogni modo, in realtà io ero molto incerta, le mie amiche facevano lettere classiche, poi, e quella è stata una motivazione abbastanza forte, a parte quello, a parte quello, poi mi interessava continuare lo studio del greco, poi mi interessava glottologia, cioè linguistica generale. Cos'è, cos'è questa? Glottologia, linguistica generale. È l'unica materia scientifica che studia lettere in pratica, è lo studio scientifico della linguistica, cioè non le singole lingue, ma i meccanismi, i meccanismi appunto che sottostanno allo sviluppo delle lingue, alla loro configurazione, ai loro tipi di rapporti, di parentele e così via. Ed è un argomento interessantissimo, una materia difficile, perché appunto ha un taglio scientifico, quando ho cominciato l'università hanno introdotto la, come si chiama, la possibilità di personalizzare il piano di studi. Ah, sì, perché c'è adesso, sì, sì. Molti l'hanno personalizzato togliendo l'ottologia. Io invece l'ho penalizzata, perché per quanto fosse una materia difficile, per certi versi, ossica, secondo me mi dava molta soddisfazione e mi è servita moltissimo, perché insomma, anche al giorno d'oggi, che arrivano riforme dall'alto sulla lingua, tipo dobbiamo dire sindaca e non sindaco e così via, Io so cosa pensare di queste cose, date le mie basi di linguistica generale, e mi piacerebbe che quelli che fanno queste cose avessero anche loro studiato un po' di glottologia, ma non è così. Sai che glottologia è proprio la prima volta che la sento, però interessante, materia, cioè con approccio scientifico a una materia umanistica. Diciamo linguistica generale, forse come linguistica generale è più gettonata, più conosciuta. No, in ogni modo, sì, mi sono iscritta a lettere per quello, non tanto perché mi interessasse la letteratura come tale, poi leggevo molti libri però di mia scelta, non è che avessi una passione per la letteratura. Sì, sì, perché mi piaceva. Anzi, i manuali di storia letteraria, francamente, erano quelli che studiavo più malvolentieri, perché un conto è se leggi le opere, un conto è di studiare vita, morte, miracoli degli autori, tutta la sequenza cronologica e così via, cioè insomma è abbastanza fastidioso. Mi ha dato un bellissimo aggancio perché tu intanto prima abbiamo fatto un po' di introduzione, abbiamo parlato un po' tra di noi e ho detto sì, sarà questa puntata, ti presenterò appunto come questa grande conoscitrice dei miti e questa grande appassionata di mitologie e tu mi hai detto no, no, guarda, non è affatto così. Però mi hai detto una cosa interessante, ovvero che per spiegare, per studiare, per affrontare alcuni autori come Dante, come Galileo, c'è bisogno di sapere parte dell'astronomia. Quindi tu ti sei approcciata con uno dei primi corsi per fare planetaristi, quindi per... Sì, il primo, il primo nazionale, il primo a livello nazionale, assolutamente, durato 70 ore mi parla, qualcosa del genere. 70 ore? Quante sono? Sto pensando in CFU, sono tipo 20-30 CFU, penso, una cosa impressionante. Beh, allora non esistevano i CFU, proprio non se ne parlava. Sarebbe questo esame gigantesco da portare e quindi tu hai imparato, quindi innanzitutto sapevi dell'esistenza del planetario di Modena. Allora, non lo sapevo, ma appunto insegnando letteratura italiana al liceo rompevo le scatole ai miei colleghi di matematica e fisica su certi temi, uno dei quali è il seguente, all'elementario, io per certe cose avevo una memoria di ferro da giovane, adesso ne ho di meno, però insomma avevo una memoria... Parli con uno che non ha mai avuto memoria e non l'aveva mai. E comunque mi ricordavo veramente, come dire, scolpito a lettere di fuoco, che all'elementario ci raccontavano che Cristoforo Colombo veniva ostacolato nella sua intenzione di navigare per l'oceano perché dicevano che la terra era piatta, i dotti di Salamanca sostenevano che la terra fosse piatta. Bagliatissimo. Quando poi al liceo ho studiato Dante, sembrava che Dante pensasse che la terra era rotonda, allora nella mia testa è nato questo interrogativo, ma se nel medioevo pensavano che la terra fosse rotonda, com'è che poi nel tardo rinascimento pensavano che fosse piatta? Cos'è successo nel frattempo? Così veloci sono stati, esatto. Però il problema qual è? Che al liceo noi non facevamo come gli studenti di adesso che saltano sempre su. Primo saltano su nel senso che fanno domande, interrompono, chiedono, non ne chiedevamo mai niente. Dipende molto dalla classe. No, no, tutte le classi erano così. C'era un livellamento fin da quando eravamo piccoli perché un po' avevamo paura di fare brutta figura dimostrando la nostra ignoranza. Con qualche insegnante, non quello di lettere ma con qualcun altro, tipo quella di matematica, il rischio era vieni alla lavagna che ti interrogo. Perfetto, benissimo, sono invogliato a fare domande. Eravamo disincentivati dal far domande. Quindi io per tutto liceo, a parte che non era un interrogativo, non era una tortura mentale, insomma ogni tanto mi ballenava questa curiosità ma ci passavo anche sopra. È bello anche soltanto chiedere, scusa, hai un professore lì? Sarebbe anche bello fare questa domanda? Sì, 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 però appunto come dicevo erano tempi in cui... Basta domande proprio. No, uno si sentiva anche di fare una brutta figura davanti ai compagni, si dimostrava, perché magari dice ma se mai l'ha spiegato non sono stato attento, insomma... Sì, 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 capisco. Fatto sta che quando poi è cominciata a insegnare effettivamente Dante risultava che considerasse la Terra rotonda, sicché chiedeva ai miei colleghi di matematica e fisica ma com'è che ai tempi di Dante pensavo qui e Cristoforo Colombo invece? E loro non mi sapevano rispondere perché non si erano mai posti i problemi. Un giorno una mia collega dice guarda ma sai, visto che sei interessata a queste cose, ma lo sai che al planetario fanno un corso per planetaristi perché non ci vai? Dico ma non so, non so neanche se ci fossero i planetari. Ecco, perfetto, come gran parte di Modena lo sa che... Cos'è il planetario? Mamma mia questa... E poi mi ha fatto vedere il bando, ho detto guarda che però dice laureati o laureanti di materie scientifiche sicuramente non mi prendono. E tu prova, non si sa mai. Esatto. Infatti sono stati gentili, mi hanno preso. E poi... Io mi sentivo come... Trent'anni dopo siamo qua. Mi sentivo come una mosca caduta in una scodella di latte perché cioè nel senso di totalmente fuori luogo perché ero l'unica laureata in lettere. Anche se poi tra i miei colleghi di corso c'era una ragazza più giovane di me, Monica Aimone, che studiava lettere moderne e che adesso fa lezione al planetario di Milano. Quindi insomma ho sicuramente una collega a Milano che ha frequentato come me il primo corso nazionale qui a Modena perché sono venuti da varie regioni d'Italia per frequentare questo corso. E poi ci sono stati dei grossi nomi, Roberto Ragazzoni che adesso è un astronomo di fama internazionale. L'ho già sentito, Ragazzoni. E' diciamo un esperto di ottiche adattive. Ah ok, forse l'ho anche studiato in un corso, penso popolazioni stellari risolte. Avranno 55 anni più o meno. Sì, perché le ottiche adattive, sì, nell'ottica adattiva ce l'abbiamo affrontata. Direi che lavora a Padova, comunque ha frequentato il primo corso qui appunto come tutti noi, pur essendo un fuoriclasse già allora perché era giovanissimo, però insomma si capiva che già lavorava all'osservatorio di Padova a Montecar. Ok, ok, sì, sì. Insomma, sì, era sicuramente una personalità già all'epoca. E poi ti è piaciuto così tanto che hai deciso... Ma così tanto, devo dire che in realtà ero molto disorientata perché la maggior parte degli esercizi, anche degli argomenti, mi sfuggivano quasi totalmente. Però siccome sono ostinata, mi seccava ammettere di avere preso un granchio e quindi ho continuato. No, o io o il planetario. Per pura capabilità ho continuato. Verso metà corso ho cominciato a capire le prime lezioni. Insomma, poi il corso è stato replicato un anno o due dopo. Io ho frequentato anche quello, anche senza iscrivermi ufficialmente. Con ormai, come si chiama, studente senior già più... Sì, ma semplicemente quando c'erano le lezioni ci andavo anch'io. Ok. E magari aiutavo a distribuire le fotocopie. Insomma, visto che ormai già bene o male facevo parte un po' dello stato del planetario. Sì, perché poi si entra così anche a me il planetario pian pianino, vieni tirato dentro e non esci più. Sì, ma poi tra l'altro i primissimi anni ho fatto pochissime lezioni. Più che altro andavo ad assistere alle lezioni altrui, soprattutto alle conferenze del giovedì sera. Anche perché poi un po' alla volta mi aveva molto appassionato la possibilità di riconoscere le costellazioni occhio nudo. Quando anche nel cielo vero mi rendevo conto quella lì è la costellazione del Leone, quella è Orione, eccetera. Per me era una soddisfazione. Fino ad allora per me le stelle erano tutte uguali, assolutamente prive di... Alcune fosse più luminose. Alcune un po' più luminose, posizionate in modo strano. Però non mi dicevano niente. Non ci vedevi già le costellazioni. Sì, invece in effetti l'aspetto visuale è fondamentale. Cioè a forza di frequentare lezioni e conferenze, visto che tutte le volte ci fanno vedere il cielo stellato, bene o male però poi impari. Però ci vuole un sacco di esercizio. Facevamo esercitazioni anche con le cartine mute del cielo, ce le ho ancora a casa. Cartine mute? Cartine mute vuol dire che ci sono solo le stelle e tu... Ah, devi riconoscere... E tu devi con la matita individuare le costellazioni. Un po' come nella settimana enigmistica. Sì, sì, infatti stavo pensando come settimane enigmistiche. Solo che nella settimana enigmistica ci sono i puntini numerati, lì invece non ci sono i numeri. Perfetto. Ti devi arrangiare. Perfettissimo, proprio comodo come cosa. Poi, vabbè, avendo un po' di occhio, se uno riconosce, non so, il grande carro, dopo bene o male, quelle vicine, avendo un po' di esercizio. Però era... Del resto, probabilmente adesso, non so, gli insegnanti finirebbero sul giornale se lo facessero, ma tanti anni fa usavano le carte mute anche per geografia. Ah, sai che forse qualcosa... Le carte mute, se con l'Italia, con disegnate montagne, fiumi, l'ala, senza neanche un nome, i nomi ce li devi mettere tu. No, quello lì sì. Forse adesso sarebbe considerata una cosa pedagogicamente, una specie di tortura per gli studenti, quindi forse non si fa più. Però, diciamo che sono, come dire, sono tecniche che abituano veramente a osservare, a guardare. Quello lì sì. Cioè, aiutano la memoria visiva, moltissimo, e per il conoscimento del cielo è fondamentale. Sì, se lo vedi già subito... Ma poi tu quando fai lezione a una conferenza planetaria, sei al buio... E poi ti hai 3.000 stelle. Cioè, la costellazione, sì, la costellazione dei pesci, dove cavolo sono i pesci, che sono anche una costellazione invisibile. Esatto. Poi c'è quello che dice, io sono della riete, mi dice dov'è la costellazione, tanti saluti, anche lì trovare la riete. Sono due stelle, proprio piccolissime, lontanze. Quindi sì, effettivamente, anche queste esercitazioni sono state molto lunghe, soprattutto a casa, perché poi dovevamo allenarsi un po' a casa. ma molto utili. E adesso infatti insegni a noi a fare lezione al planetario. A voi, insomma. Voi siete grandi, ormai le cose le sapete già, però sì, effettivamente. Diciamo che ho l'occhio più allenato di voi per motivi anagrafici, perché sono qua da tanto tempo. È tutta esperienza. È tutta esperienza, esatto. Allora, appunto, tornando al planetario, anzi, non tanto al planetario, ti vorrei fare un po' una domanda legata all'astronomia. C'è una branca dell'astronomia che preferisci? Cioè, tipo, io sono più appassionato, già affrontato anche con Enrico, questa domanda. Nel senso, io sono più appassionato di galassie, per dire, ad esempio. C'è una parte dell'astronomia che preferisci? Tipo, anche soltanto costellazioni, oppure stelle, oppure galassie, cosmologia? C'è qualcosa che ti ispira? Sì, dipende dal punto di vista. Nel senso che, in generale, uno dei motivi fondamentali per cui poi ho resistito a planetario, nonostante le frustrazioni iniziali che sono state notevoli, è che a me sono sempre interessati gli argomenti di confine, cioè gli argomenti a scavalco tra una disciplina e l'altra. Non ho mai avuto una grande parte, forse a scuola mi annoiavo perché, appunto, le materie erano tutte degli scatoloni chiusi e non comunicanti. Questo è sbagliatissimo. Infatti, io ammiro molto la cultura medievale perché i medievali erano degli enciclopedisti. Ah, non era un periodo buio, il Medioevo? No, assolutamente. Dipende da quale. Cioè, mi avevo durato mille anni, più o meno. E' una buona domanda per farci saltare il suo, è questo. C'è fase e fase. Ci sono dei periodi poco illuminati da documenti scritti, il periodo alto medioevo, cioè dalla caduta dell'impio romano fino al mille, che però sono interessantissimi per quel po' che è rimasto, e molto importanti perché è la fase in cui si sono elaborate anche le lingue moderne, per esempio dal latino si è passato le lingue non latine. Quindi, e poi sì. Ah, è stato lì, tipo, mi ricordo una lezione, mi ha fatto venire in mente questo ricordo, di quando mi ha fatto, come si chiama, letteratura latina, in quinta, e lo sviluppo dell'italiano. Quindi dovrebbe essere lì che è nato da caballus, dal latino che si è sviluppato. Sì, caballus, che era il caballo da tiro, diventa. Ecus, sparisce, è un termine più dotto. Un mirco da vuoto. Sì, perché ci sono varie forme di trasmissione. La trasmissione che si è adotta e quella popolare. Dato che una lingua si trasforma nel parlato, e quindi a livello popolare, cosa è successo? È successo che nel parlato il termine caballus era più usato perché il cavallo da tiro era il cavallo di tutti i giorni. Ecus era invece il cavallo signorile, quello utilizzato magari in battaglia, che usava la cavalleria, però non era di uso così comune. Quindi il termine ecus un po' alla volta è sparito dall'uso, ed è rimasto caballus. Il termine ecus è rimasto un aggettivo equino, equitazione. Comunque gente che ha studiato. Ad ogni modo, appunto, i vari passaggi che sono moltissimi, interessantissimi, dal latino all'italiano, mediati poi anche dal cristianesimo. Ad esempio, captivus, voleva dire prigioniero. Adesso vuol dire cattivo, malvagio, perché è filtrato attraverso il cristianesimo. Captivus diaboli, prigioniero del demonio. Ah, bello questo, non sapevo. Cioè, ci sono i cosiddetti cristianismi. Per esempio, la parola parlare non è latino, è dal greco parabolare, parabola, che noi troviamo nei Vangeli. I latini usavano il verbo loquor, che è sparito. È rimasto in eloquenza, eloquio, termini dotti, loquace, esatto, ma non termini di uso comune. A me fa un sacco ridere perché siamo in un podcast di astronomia, però stiamo parlando di latino. No, perché tutto si tiene in realtà. Effettivamente, appunto, l'alto medioevo è un periodo storico importantissimo perché ci sono anche queste mescolanze di popoli, queste invasioni barbariche, che sono poi di trasferimenti, di gente che a casa sua cominciava a star male per varie ragioni, perché c'erano iule, perché c'era la siccità, o che so io, e hanno cominciato a spostarsi all'interno dell'impero romano, che ormai non aveva più un grande potere, anche militare, da poterli contrastare. E poi, appunto, il medioevo, propriamente detto, cioè dopo il mille, è una fase tutta diversa. Abbiamo un livello culturale molto elevato, tra l'altro l'epoca in cui in Occidente si diffonde l'almagestro di Ptolomeo, grazie agli arabi, grazie agli arabi, perché i romani non hanno avuto un grande interesse per l'astronomia, hanno ripreso in maniera più o meno diligente quello che gli era stato trasmesso dai greci, però di per sé, insomma, hanno avuto altri campi di interesse, il diritto, per esempio, i greci il diritto... L'architettura, anche. Ma sì, sicuramente. Stavo pensando agli acquedotti molto banalmente, che non ne so molto di architettura. No, no, ma in generale le opere di gran... Insomma... Le strade. Le strade, esattamente. Le strade ce le abbiamo ancora. Certe acquedotti credo che funzionino ancora dalle parti di Roma, quindi... Cioè, direi che... Sai che mi hai fatto dare in mente, appunto, una cosa interessantissima, ovvero che un sacco di nomi di stelle, cioè, ok, costellazioni derivano dai greci, però i nomi delle stelle invece derivano dagli arabi. E infatti per noi è un po' un tormento deve imparare quei dovi strada. Però è anche soltanto... Senza avere la certezza di pronunciarli giusti e non sappiamo cosa vogliono dire, però... Vabbè, lì, proprio anche soltanto mi viene in mente Altair, o Altair, Bettingeuse, Riegel, esatto, tutte... Quella lì, quindi che sono stati, sono stati loro, tra virgolette, i figli dei greci che li hanno presi e li hanno tutti, e hanno creato, hanno continuato l'opera di astronomia. Pensa che c'erano degli osservatori astronomici, già credo nel nono secolo a Bagdad. Sì, cioè gli arabi sono stati effettivamente i continuatori della scienza greca che è stata di per sé molto, ma molto, come dire, geniale, perché i greci senza strumenti, perché non avevano mica niente, hanno scoperto un sacco di cose, tra cui la precessione degli equinozzi, per esempio. Che dici poco, effettivamente. Il secondo secolo avanti Cristo erano talmente accurati, disegnavano delle carte stellari talmente accurate che il parco, confrontando delle carte dei suoi tempi con quelle fatte due secoli prima, si è accorto che le stelle erano un po' spostate, la longitudine delle stelle era cambiata, e alcune stelle, quelle più vistose, tipo spicca, era cambiata, e da lì ha dedotto che il cielo si era un po' spostato. Noi diciamo, è l'asse terrestre che cambia inclinazione, loro non potevano saperlo, però avevano capito la precessione, perché la Terra comunque ruota, è leggermente inclinata tra asse terrestre. Ruota su proprio asse, sì. Esatto, e il problema è appunto immaginatevela come una trottola, anche se doveste immaginatela come una doppia trottola che sta ruotando, quindi c'è l'asse che si muove, che sarebbe appunto l'asse che noi gli diamo lo spin, diamo il verso di rotazione, la rotazione della trottola, e vediamo che quando comincia a rallentare, quando sta per cadere, vediamo appunto l'asse che fa un cono, che fa un cono, comincia a girare, appunto è quella lì. Cioè noi adesso abbiamo l'asse che punta verso la polare, almeno l'asse del nord che punta verso la polare, e tra invece 20.000 anni punterà verso Vega, mi sembra, giusto? 30.000 anni più o meno, sì. Ok, esatto, scuso, scuso, scuso. No, no, tanto cosa vuoi, ma sì. Comunque sì, la precessione è quel ferrono lì, per cui l'asse terrestre cambia inclinazione nel corso dei millenni. Cioè già, quindi... Per via dell'attrazione lunisolare, direi. Comunque, insomma, cambia inclinazione, per cui se adesso punta verso la polare, non sarà sempre così, non è stato sempre così. in effetti ogni tanto mi meraviglio quando, non so, sui libri di storia del Biennio si legge che i fenici navigavano guardando la stella polare. La stella polare a tempo dei fenici non era polare, non era lontanissima dal polo, cioè i fenici sicuramente avevano come diciamo costellazione guida l'orsa minore che poi è quella in cui si trova la stella polare. Per dire che guardassero la stella polare è un po' impreciso, perché la stella polare è diventata tale nel Medioevo. Ah ok. Più o meno cioè se ne parla come polare dal Medioevo. La chiamavano la tramontana perché era ultramontana, cioè oltre ai monti, si vedeva a nord. E quindi quando i navigatori del primo rinascimento del Medioevo, insomma quelli che erano così ardimentosi da uscire dal colonne d'Ercole e navigare verso l'equatore, quando arrivavano alle prossimità dell'equatore non la vedevano più e dicevano abbiamo perso la tramontana. Cioè ci sono molti collegamenti con l'astronomia. Da questi navigatori troviamo anche Ulisse perché poi Ulisse in realtà non sappiamo se ci è andato davvero. Forse probabilmente Dante che si è inventato quest'ultimo viaggio di Ulisse però ha perso la tramontana. Mi sto perdendo la parola. Romanzata molto bene. Sì, sì, dice tutte le scelle già dell'altro polo vedeva la notte il nostro tanto basso che più non surgeva fuori del mare in suolo il nostro polo il nostro polo nord il nostro polo nord era talmente in basso la nostra stella polare che non si vedeva più cioè era sparita sotto l'orizzonte quindi Dante fa dire Ulisse una cosa che avrebbe potuto dire un navigatore dei suoi tempi o anche dei tempi posteriori che Ulisse allora qualora Ulisse fosse esistito sarebbe esistito nel XIII secolo avanti Cristo quindi è altamente improbabile che potesse pensare bene di navigare oltre le colonne d'Ercole penso con le navi dell'epoca con le navi dell'epoca che erano delle barchette e arrivare fino oltre l'Equatore oltretutto con le tempeste che potrebbero esserci nell'oceano quindi insomma no perché l'oceano atlantico effettivamente certamente Ulisse non ci è andato però Dante gli ha fatto un grosso favore comunque adesso cioè non voglio farla tanto lunga però effettivamente l'astronomia si collega con moltissime altre discipline e permette di costruire certi spezzoni di storie della cultura di storie della civiltà occidentale ecco intesa in senso proprio antropologico sì sì perché ad esempio appunto Ulisse è un po' un archetipo dell'eroe navigatore come ce ne sono tanti in tutte le mitologie anche Noè anche come si chiama Mount Napishtim non mi ricordo più insomma quelli della mitologia babilonesi anche i babilonesi mi ricordo quando ho studiato per fare la puntata su Marte che appunto c'era tutto Nergal lo chiamavano esatto c'era tutta la mitologia che poi i greci hanno tra virgolette ereditato perché poi il dio che era il dio non della morte o comunque del sangue il rosso rappresentava il sangue dei nemici di questo dio non vorrei dire cavolate però mi sembra fosse così poi i greci l'hanno riadattato come dio della guerra quello lì è interessantissimo già i babilonesi appunto che studiavano la mitologia e ok piccola domanda sì e tra abbiamo parlato di arabi greci vabbè romani che non è che abbiano fatto tantissimo no dicevo appunto il medioevo è importante poi concludo subito perché nel medioevo grazie agli arabi è stato reintrodotto gli arabi hanno occupato buona parte la Sicilia la Spagna quindi in sostanza erano lì insomma erano in casa e quindi la loro cultura era molto raffinata e anche molto avanzata rispetto a tanti aspetti invece della cultura latina della società latina che segnava un po' il passo sta di fatto che nel dodicesimo secolo mi pare il dal magesto dall'arabo è stato tradotto finalmente in latino e quindi è arrivato anche a Dante e a tanti suoi contemporanei che quest'opera la conoscevano poi molto bene come Alberto Magno per esempio il maestro di Tommaso d'Aquino quindi insomma ci sono dei collegamenti ci sono dei collegamenti molto interessanti e nel medioevo la cosmologia fa tutt'uno con la teologia e la visione del mondo in generale cioè non era una disciplina separata da altre non era possibile avere una cultura senza avere una base cosmologica delle conoscenze cosmologiche bellissimo perché tu mi parli di cosmologia io ho adesso una concezione più che altro perché stiamo facendo il corso all'università di cosmologia completamente diversa però immagino che sia poi stata una mutazione però all'epoca effettivamente il cosmo quindi il tutto era le stelle fisse i cieli i vari cieli di Dante quindi si poi si riduceva quello non si conosceva non si sapeva tutto quello di adesso no si pensava che l'universo fosse relativamente piccolo e chiuso e la terra è una piccola sfera al centro di questo universo circondato da cieli perfetti cristallini in cui stavano incastonati le stelle i pianeti anche il sole e la luna che erano considerati pianeti in quanto corpi erranti rispetto alle stelle che invece erano fisse ti volevo chiedere una piccola domanda di mitologia o comunque astronomia a livello di miti o comunque di storie raccontate tra questi vari popoli ce n'è una che preferisci cioè una che ti appassiona di più cioè io sono più tra virgolette appassionato e sbagliato più affezionato ai greci perché i primi che si studiano i primi che si imparano quelli che si imparano meglio e poi perché alcuni miti mi hanno fatto troppo ridere cioè non riesco veramente a non ridere però dopo ti racconto quello che mi piace di più quello che ti ha fatto ridere perché io ho dei miti tanto da ridere non ne ho trovati quindi sono curiosa di sapere quali sono perché fanno ridere dipende anche da come vengono raccontati quando ci sono i bambini bisogna anche censurare molto perché spesso i miti in re ci sono un po' a luci rosse diciamo la verità diciamo che sì c'è Zeus un attimo che si lascia andare nel mondo terreno un po' troppo sì effettivamente un po' donnaiolo eccetera beh dicevi appunto come mitologia di questi di questi popoli qual è quello che ti ispira ma dunque io sarei curiosita molto dalle dalle mitologie astrali dei popoli ex-europei quindi ad esempio anche i Pelle Rossa qualcosina ok ok sì qualcosina avevo cercato anche di leggere per una conferenza che ho fatto poi sul sul cielo dei Pelle Rosse insomma che poi non si può generalizzare io direi facciamo una piccola pubblicità planetario allora noi siamo qui nel centro di Modena più o meno siamo di fianco al Palazzo dei Musei di fianco al Corni c'è il sito c'è il podcast siamo attivi su tutti i social vi invito comunque a seguirci a mettere mi piace e a venirci a trovare nelle nostre conferenze perché poi questo è per attirarvi qua trovate tutte le persone intervistate che vi fanno conferenze dal vivo e sono anche meglio che un semplice podcast dopo questo piccolo attivino che il nostro magnifico direttore mi impone di fare ogni puntata ti lascio finire di rispondere stavo dicendo appunto che un punto molto dolente è quello delle mitologie astrali dei popoli extraeuropei le costellazioni dell'altro emisfero hanno nomi moderni il telescopio il microscopio il pavone perché sono state date dai navigatori dagli scienziati a partire dal 1600 più o meno il 1700 sì esatto che a seconda ma anche un po' magari dei gusti del momento delle persone hanno individuato nel cielo australe o oggetti tipici della scienza come il microscopio il telescopio l'ottante non so più cos'altro oppure oppure che so animali della fauna locale il pavone il tucano non so più quali altri hanno perso un sacco di passione però il problema qual è che questi popoli degli altri dell'altro emisfero in realtà avevano delle loro tradizioni mitologiche legate alle costellazioni avevano delle costellazioni diverse alle nostre chiaramente e avevano individuato anche loro nel cielo delle figure purtroppo di questo patrimonio sappiamo poco perché si tratta di culture che sono rimaste sempre allo stadio orale e in buona parte distrutte dalla colonizzazione poi dalla modernità insomma così però ad esempio ci sono degli aspetti interessantissimi c'è un mito maori mi pare non mi ricordo più i nomi dei personaggi comunque ci sarebbero due personaggi che sono marito e moglie la terra e il cielo non mi ricordo i nomi maori terra e cielo che sono schiacciate non sull'alto il cielo opprime la terra schiacciandola praticamente i figli non riescono a farsi strada appunto a causa di questi due corpi che li schiacciano allora congiurano fra di loro per liberarsi e uno di loro non mi ricordo più come il più forte di tutti riesce puntando energicamente i piedi riesce a spingere il padre verso l'alto così il cielo si stacca dalla terra e i figli riescono a dar vita alle loro come dire prerogative quindi diventano chi i monti chi le tempeste chi gli alberi eccetera sì ecco è un mito maori se non ricordo male ma ricorda moltissimo quello greco di urano e gea uranos e gea gea che sono uranos il cielo stellato uranos il cielo stellato gea è la terra e secondo il mito raccontato da esiodo sono strettamente uranos schiaccia la terra non ti piace quella copertura del microfono schiaccia la terra i figli che nascono da loro sono schiacciati tra i genitori finché la terra stessa stanca per questa oppressione esorta uno dei figli che è cronos a evirare il padre uranos cosa che lui fa il padre ovviamente scatta verso l'alto l'oggetto diciamo tagliato piomba in mare e dalla spuma del mare lo evira quindi insomma gli taglia l'oggetto diciamo ecco e l'oggetto tagliato cade in mare dalla spuma del mare nasce Afrodite la dea dell'amore non è ah nasce da quello non era una perla di Deus beh sulla perla lì la rappresentano il rinascimento però insomma il racconto il racconto è molto cruento è molto appunto non da raccontare ai bambini quando vengono a planetare però è interessantissimo il fatto che la mitologia greca e quella maori chiaramente agli antipodi diano la stessa una spiegazione molto analoga del fatto che il cielo è sospeso sopra la terra anzi che appiccicato ma non sono le uniche mitologie che spiegano in questo modo la separazione tra il cielo e la terra sarebbe interessante capire da dove nasce l'idea che cielo e terra fossero schiacciati uno sull'altro che poi siano stati in qualche modo violentemente separati sono anche dei miti africani abbastanza simili ne avevo sentito qualche giorno sì tipo in qualche conferenza che aveva fatto la rita sulla luna mi sembra che aveva fatto qualche mito del Niger e della Nigeria due miti molto molto interessanti a me ha fatto venire in mente come pensando appunto a queste popolazioni australi come effettivamente vorrei un sacco approfondire i neozelandesi perché per due motivi cioè fondamentalmente stiamo parlando di un popolo nato in isole quindi avevano bisogno di muoversi per navigazione un popolo di navigatori sicuramente dove ci sono i navigatori hanno bisogno di stelle per muoversi anche di sera esatto per l'orientamento quindi secondo me loro hanno un sacco di miti un sacco di cose che noi non conosciamo avevano avevano sì ecco è corretto bene un sacco di miti sulle stelle del sud dell'emisfera australe che sapere anche come vedevano la piccola grande nube di Magellano il grande sacco di carbone deve essere veramente interessantissimo da fare appunto quindi hai parlato sia di popolazioni mettiamo dall'altra parte quindi pelle rossa sia popolazioni dell'emisfera australe però tu hai detto hai parlato anche prima di Dante appunto Dante che ha fatto questa grande scoperta io mi ricordo in qualche lezione che abbiamo fatto con qualche lezione il terzo il quarto anno del liceo quando abbiamo parlato appunto di Dante e ok io mi ricordo qualcosa prima che entrasse nell'inferno collegato all'astronomia e tu invece hai sostenuto tre conferenze complete su inferno purgatorio e paradiso in cui l'astronomia ricopre un ruolo fondamentale ti volevo chiedere visto per curiosità mia visto che non sono riuscito a partecipare a quelle conferenze ma nell'inferno dove entra l'astronomia se non nella selva oscura cioè che io mi ricordo qualche qualche cosa qualche reminescenza veramente lontana da lì intanto una cosa che sfugge a quasi tutti i lettori della ginecomedia che la selva oscura non era poi così oscura perché a un certo punto Virgilio gli dice già ieri notte fu la luna tonda ben tende a ricordare che non ti nocque alcuna volta nella selva fonda cioè vuol dire ieri notte c'è stato il plenilunio no no sto traducendo ieri notte c'è stato il plenilunio e devi ben ricordartene perché ti ha fatto comodo quando eri perduto nella selva oscura quindi alla selva oscura era rischiarata dal plenilunio che in effetti getta abbastanza luce per cui per fortuna Dante sapeva dove andava tra l'altro questo plenilunio ha fatto molto discutere gli interpreti della ginecomedia perché calendario alla mano hanno cercato di capire quando sarà stato questo plenilunio perché Dante di cosa parla parla di un parla appunto del tra l'altro si è stranissimo che fosse un plenilunio prima subito prima di Pasqua perché perché appunto la settimana durante la quale svolge il viaggio di Dante è la settimana santa lui si perde nella selva oscura nella notte tra giovedì e venerdì santo venerdì incontra Virgilio la sera di venerdì entra nell'inferno e percorre tutto l'inferno in un giorno solo dalla sera di venerdì alla sera di sabato la mattina di domenica giorno della risurrezione di Cristo la domenica di Pasqua si trova sulla spianata del purgatorio ok che esce a rivedere le stelle sì di solito però cosa succede che vabbè insomma vabbè stai tirando fuori tutta la conferenza diciamo che c'è stato un plenilunio i giorni precedenti ma poi ecco Dante dice che intanto ci dà delle indicazioni lui prima di prima di entrare nell'inferno dice che era il periodo quel periodo dell'anno in cui il sole sorge con la costellazione dell'Ariete era mattina ok se il sole è in Ariete sarebbe in Ariete in teoria ma non è vero nel periodo dell'equinozio di primavera in realtà ai tempi di Dante non era più così non è così neanche adesso all'equinozio il sole è nei pesci ma Dante usa l'Ariete perché c'è una tradizione antichissima e molto consolidata per cui il sole in Ariete è collegato all'equinozio di primavera probabilmente all'epoca delle prime osservazioni sempre per via della precessione degli equinozi il sole era in Ariete tipo 2000 anni prima però si continua a utilizzare questo schema mentale che evidentemente aveva avuto molta fortuna già nei secoli ma noi astronomi siamo persone proprio svogliate di cambiare le abitudini fatto sta che poi Dante nell'inferno usa alcune perifrasi per indicare soprattutto il passare del tempo di un certo punto vieni andiamo che ormai stanno sorgendo i pesci i pesci guizzano su per l'orizzonta i pesci sono la costellazione che precede l'Ariete se stanno sorgendo i pesci vuol dire che sta per sorgere il sole saranno due ore prima della sorgere il sole saranno le 4 del mattino ma qua sono ancora nella selva sono nell'inferno sono dentro all'inferno come fanno a vedere queste lezioni appunto bravo Dante non vede assolutamente niente Dante non vede niente nell'inferno non viene nominato il sole perché è simbolo di Dio e quindi non esiste le indicazioni orarie Dante ci tiene a dare indicazioni orarie perché vuole che il lettore abbia l'impressione di un viaggio reale che si è sviluppato nello spazio e nel tempo non un viaggio immaginario o allegorico cioè allegorico sarai tu direbbe il lettore il mio viaggio non è allegorico per niente e quindi lui dà indicazioni orarie utilizzando gli astri notturni cioè la luna e le stelle e Virgilio Dante non vede niente ma Virgilio vede sa sa cosa c'è sulla terra sa che cosa sta risplendendo o non risplendendo sulla terra quindi dice sta per tramontare la luna che è la luna quasi piena che vuol dire che essendo passati un paio di giorni da plenilunio dunque se sta per tramontare la luna no la luna è sotto i nostri piedi e quindi il sole è poco oltre mezzogiorno ah ok proprio per dare l'indicazione per dire che sono solo le due del pomeriggio dice la luna è sotto i nostri piedi uno dice e allora e allora è così non ci avevo mai fatto caso non sono tante le indicazioni di questo tipo nell'inferno ma sono tutte precise e vogliono proprio dare l'impressione dello scorriere del tempo per Virgilio è come se la volta dell'inferno fosse trasparente lui sa che cosa succede in cielo perché lui è un'anima del limbo non è esatto ha una sorta di omniscienza diciamo ok sì mentre invece Dante non può saperlo e comunque Virgilio ha una come dire ha un incarico soprannaturale in qualche modo quindi è anche dotato è una guida e deve anche sapere che ora è e dove stanno andando ma la cosa abbiamo un appuntamento la cosa più interessante è quando arriva in fondo all'inferno che dice dobbiamo andare perché è già sera un attimo dopo dice ormai il sole sta per sorgere nuovamente dice come sta per sorgere il sole sera a sera un attimo fa perché noi abbiamo passato il centro della terra e adesso siamo sotto l'altra emisfera siamo dall'altra parte quindi è molto preciso Dante in queste cose e quindi appunto erano passati dall'altra parte quindi già la concezione di terra sono sotto il cielo australe e lì se sotto il cielo boreale è sera sotto il cielo australe è mattina giustamente però questo qua ci riporta poi anche la concezione di terra che sapeva che la terra era di osperica poi tra l'altro parla del punto a cui si traggono da ogni parte i pesi cioè aveva una nozione della gravità terrestre quella lì è credo che sia proprio il fatto della terra piatta una concezione che ci portiamo dietro avevo ascoltato qualche avevo letto qualche approfondimento su questi mi sembra maggiormente dal alcune parti del cristianesimo che hanno portato avanti questa durante l'alto medioevo qualche sì qualcuno tipo Cosma indico Pleuste qualcuno aveva effettivamente ripreso l'idea della terra piatta perché tipo cos'era quando Dio copre con i quattro angoli della terra quello lì quindi quattro angoli invece però non ha avuto molto seguito neanche questa nozione perché poi subentrando diciamo così la l'astronomia tolemaica e questa è stata compenetrata dalla teologia cristiana e effettivamente i nove cieli che circondano la terra all'esterno sono retti ciascuno da una delle nuove gerarchie angeliche ci sono le intelligenze angeliche che muovono i cieli si muovono la terra no ma i cieli si ma si muovono perché sono le intelligenze angeliche farli muovere Aristotele non avrebbe detto chiaramente però insomma il cristianesimo ha detto molte belle cose ma in astronomia il cristianesimo ha riciclato tutto quello che ha potuto della cultura pagana e l'ha cristianizzata ha detto fatto così guarda se io ti ringrazio ancora per essere stata con noi oggi spero che tu ti sia divertita trovata tuo agio dimmi dimmi che dunque la mia costellazione preferita è la chioma di Berenice che è praticamente invisibile però è molto carina perché ci ha detto una bella storia quella della regina Berenice è una storia vera che dato che il marito Ptolomeo era partito per una guerra contro la Siria Egitto e Siria siamo nel terzo secolo avanti Cristo dopo la fine dell'impero di Alessandro Magno quando si formano i regni dei regni derivati da questo vasto impero Egitto e Siria che sono i due principali di questi regni sono sempre in conflitto fra di loro Ptolomeo parte per una guerra la moglie era molto giovane erano sposati da poco quindi era molto preoccupata per questa guerra e promette in dono ad Afrodite non so quale altre divinità avevano poi nomi diversi in Egitto comunque promette in dono votivo la sua lunghissima chioma aveva dei bellissimi capelli era Berenice di Cirene in Tripolitania veniva dalla Libia però in realtà era una dinastia macedone fatto sta che promette la sua bella chioma in dono votivo se il marito tornerà dalla guerra e il marito torna dalla guerra lei si taglia i capelli e li depone nel tempio il giorno dopo i capelli sono spariti a questo punto qualche 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 sacerdote del tempio rischia l'osso del collo chiaramente finché l'astronomo di corte Conone storia vera dice no ma i capelli della regina sono saliti in cielo sono stati assunti al cielo come costellazione accanto alla corona di Arianna lontanissima parente forse Arianna era quella di Dioniso eccetera fatto sta che a questo punto in realtà lui indica un gruppetto di stelle che erano più o meno sulla coda del leone stelle fino a quel momento anonime e che non avevano nessuna collocazione specie non erano considerate erano un appendice del leone e quindi al di sopra tra il grande carro e il leone c'è questa specie di angolo angoloide non so come definirlo di stelle quasi invisibili che è la chioma di berenice chi sarà stato rubare i capelli della regina non lo sapremo mai ma probabilmente diciamo che gli ha salvato l'osso del colgo esatto c'è stata dietro una faida tra sacerdoti di templi diversi quindi qualche sacerdote qualche tempio avversario che ha fatto un dispetto ai sacerdoti di venere dei feriti di come si chiamava e quindi chiamo di berenice allora io intanto ti dico la mia ed è storica questa è storica sono direi due le costellazioni che sono storicamente di cui si sa come sono state inventate intanto allora ti dico la mia preferita poi invece quella che mi ha fatto più ridere la mia preferita è orione ma semplicemente perché è la prima che quando ho cominciato a osservare ho visto per la prima volta quindi poi mi sono perso con la nebulosa di orione da lì è stata la fine non mi sono più ripreso poi è tutta una zona piena di nuvi molecolari di fianco ci sono le pleiadi quindi c'è soltanto come ammasso aperto quindi bellissimo mentre quella che mi ha fatto più ridere ho sentito questo mito non so quanto sia vero però mi ha fatto ridere quindi lo dirò è quella del cane maggiore cane maggiore che era quello che ho sentito ieri questo cane che riusciva a prendere qualsiasi preda aiutando il suo cacciatore perché poi doveva essere vicino al lei la forse chiamava non mi ricordo quello e lo portano nel ponto mi sembra sopra Atene comunque adesso la mia geografia della Grecia è un attimo carente lacunosa perché non riuscivano a catturare questa volpe che poi dovrebbe essere la costellazione della volpe volpecula volpecula esatto in cielo e nessun cane nessun appunto sì nessun cane riusciva a prenderla e questo qua invece era un cane fatto dal destino mezzo divino che riusciva a prendere qualsiasi preda invece la volpe era anche questo qua questo animale che invece non riusciva a sfuggire a scappare da qualsiasi praticamente si inseguono si inseguono per 3-4 anni e dopo un po' si stancano di vederli inseguirsi e li pongono in cielo come si così niente di fatto chiudiamola lì pari e fatta pari e fatta e quindi io me ne ho sentito questa cosa bellissimo questo merito no io non la sapevo questa cosa qua ho sentito perché non ho mai non ho mai approfondito cosa fosse la volpecula devo dire la verità la volpetta non ho mai approfondito invece adesso poi chiudo l'altra costellazione storicamente definita è lo scudo di Sobieski Sobieski Jan Sobieski re di Polonia alla fine del 600 è stato ha vinto ha dato un contributo diciamo fondamentale per la vittoria della battaglia di Vienna contro i turchi e quindi l'astronomo Hevelius da lui protetto lui era uno che proteggeva astronomi letterati sapeva un sacco di lingue sì era un guerriero ma anche un mecenate e appunto Hevelius gli ha dedicato una costellazione un po' piccolina poco visibile un po' offuscata che è lo scudo di Sobieski che è più o meno tra l'Aquile e il Sagittario direi quindi insomma si dovrebbe vedere d'estate qualora si vedesse adesso poi d'estate poi me la fai vedere perché così voglio sapere questo allora noi ci siamo persi in chiacchiere però è stato anche interessante siamo persi molto in chiacchiere piace un po' approfondire questo collegamento tra letteratura astronomia come dicevi anche te quello che ti ha appassionato appunto è la trasversalità di questo sì esatto perché effettivamente come dire a me interessavano anche le materie scientifiche avevo un minimo di preferenza forse per quelle umanistiche ma non più di tanto e sentivo poi come lacunoso il fatto di non avere degli approfondimenti in temi di carattere scientifico quindi hai detto le approfondisco tanto vale in effetti poi a Modena credo che oltre al planetario non ci siano tante realtà in cui c'è la possibilità concreta di fare questi approfondimenti ma lo che è o non lo faccia per fatti proprio esatto o fai per fatti tuoi o sì mi aiuto molto quindi secondo me è un valore aggiunto del planetario se debba essere sincera quello che è tra sì tra i valori aggiunti maggiormente ti vorrellevo fare altre domande ma il tempo è tiranno stiamo sforando il tempo è tiranno e quindi io ti chiedo se vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori da casa bene spero di non aver annoiato troppo e soprattutto spero che gli ascoltatori siano un po' incuriositi e invogliati a frequentare il planetario perché sono sincera non mi pagano per la pubblicità secondo me ne vale veramente la pena benissimo allora io adesso saluto un attimo e arrivo allora anche questa puntata oggi è finita noi ci vediamo la settimana prossima con credo un altro intervisto anzi una cosa un po' diversa vorrei un attimo cambiare le carte in gioco e riprendere quello che vi avevo detto nel trailer della seconda stagione io spero che questa puntata vi sia piaciuta vi invito a lasciare un like a seguirci sui nostri social sul podcast andare a visitare il sito del planetario per sapere che cosa facciamo perché noi qua ogni giorno ci impegniamo per intrattenere la gente con l'astronomia e insegnargliela anche nel frattempo quindi noi ci vediamo la settimana prossima ci sentiamo anzi più che ci vediamo e ciao